Siamo con Daniele Cotto, che è l'organizzatore del Rally Faraones 2009. Vogliamo chiederti ora, al final della carriera, al final dei problemi, come è stato la carriera? Come è andata? Bene, bene, è andata bene. Tutti sono contenti, io sono molto contento, sono stati fortunati, perché ci vuole fortuna anche per funzionare tutto. Però ormai è un'organizzazione che funziona da tanti anni, sono tutti amici, per cui funziona tutto molto bene. Siamo molto contenti, speriamo che l'anno prossimo ci siano tutti quelli di quest'anno e qualcuno di più. Questo è stato un anno difficile, e si è superato, si è fatto bene. Questo significa che nel futuro va a tener più esito il Rally Faraones? Quest'anno è stato un anno difficile, sì, però devo dire più in Italia e in Europa che in Egitto, perché in Egitto abbiamo trovato dei buoni sponsor, dei grossi aiuti, e qua è un avvenimento molto sentito, molto seguito, per cui diciamo che ha funzionato meglio l'Egitto dell'Europa quest'anno. Che la sabbia che c'è in Egitto non c'è da nessuna parte, le dune dell'Egitto sono le dune più belle del mondo, lo sanno tutti, che l'Egitto è un paese molto ospitale, la gente è molto gentile, è un paese dove si vive bene, dove si sta bene, e quindi io vengo da tanti anni e ogni volta che vengo sono contento di venire. Spero che anche gli altri lo pensino così. Sì, solo possiamo dire una cosa, felicidades, molti grazie. A l'anno prossimo anno. A l'anno prossimo anno.